Era stata prospettata l'ipotesi tragica di un incidente in cui era rimasto convolto il fratello, la prospettiva che ci fosse bisogno quindi di dover pagare per la liberazione del fratello che si trovava in tribunale e quindi facendo leva su questi sentimenti poi cercano di racimolare tutti i gioielli che una persona anziana può avere in casa. Per questo è particolarmente odioso questo tipo di reato. Vittima del raggiro, una donna di quasi 80 anni, residente a Montevarchi, derubata dei gioielli di famiglia oltre ad alcune decine di euro. Tutto è iniziato con una chiamata nella quale le è stato detto che il fratello aveva avuto un incidente, si trovava in tribunale e che per aiutarlo avrebbe dovuto mettere a disposizione tutti i suoi averi. Mentre avviene la telefonata, quindi mentre la persona anziana viene intrattenuta al telefono, viene spiegato un po' quello che è successo, si presenta alla porta il complice, quindi la persona anziana non ha nemmeno il tempo di avvisare, di chiedere conferme ai parenti e il complice ritira quello che la signora aveva già racimolato, gioielli, monili, noro, orologi e quindi è un'azione che si svolge davvero in pochissimi minuti. Poi la fuga dell'uomo che si è presentato alla porta dell'anziana vittima spacciandosi per un carabiniere. La donna si è accorta solo in seguito di essere stata raggirata. Una volta scattato l'allarme è intervenuta la polizia di Stato che ha dato avvio alle indagini. Il bottino è stato recuperato nella tarda mattinata di venerdì quando gli agenti della polizia stradale hanno individuato una Jeep Renegade al casello Valdarno, già segnalata più volte nell'ambito di truffe ad anziani. L'auto è stata così fermata in A1 all'altezza di Monte San Savino, a bordo un uomo di 27 anni con precedenti con addosso ancora il bottino. Le pattuglie subito avvisate dal personale della squadra mobile si sono attivate formando il loro controllo come già da consuetudine stringendo in una morsa il veicolo segnalato. Una volta fermato dal primo riscontro sono stati i precedenti specifici della persona, quindi già segnalato più volte per reati dello stesso tipo. Da una rapida perquisizione addosso sono stati trovati questi monili e da questi sono iniziate le indagini insieme alla squadra mobile per risalire a chi fosse stata la persona truffata. Il 27enne è stato denunciato per ricettazione, l'anziana però non lo ha riconosciuto come il suo truffatore ed è così scattata la caccia al complice.